grazie io sono 40 anni ormai nata io quando canto questa canzone prego sempre il pubblico di fare un piccolo esorcismo di pace di luce e d'amore con i numeri della cabala che sono magici per cui con un pizzico di magia con un pizzico di follia perché no credendo in questo chiudiamo gli occhi pensiamo intenzialmente alla luce alla pace e all'amore e cambiamo i canti 1, 2, 3, 4 e 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8 allora facciamo una prova 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 avete la bacina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.